Un progetto legislativo che garantisca trasparenza e pubblicità al ciclo del recupero e dello smaltimento dei rifiuti è quanto approvato la prima commissione consigliare su iniziativa del consigliere Singetta dell'API in merito all'istituzione di un'anagrafe pubblica relativa alla raccolta, al recupero, allo smaltimento e agli impianti dei rifiuti solidi urbani. Consultando l'anagrafe sarà possibile apprendere i dati trasmessi dai comuni e dalle province relativi alla produzione di rifiuti solidi della comunità, alla raccolta differenziata, agli impianti di disrazzamento meccanico-biologico e a quelli di compostaggio e al numero di discariche presenti sul territorio, oltre che dati relativi alle tariffe e alle situazioni di debitore dei comuni lucani verso le aziende che trattano e smaltiscono i rifiuti solidi urbani. Ritirata invece la proposta di legge sulla nomina del responsabile della Film Commission, superata dall'approvazione nello scorso mese di marzo dell'atto deliberativo proposto dall'Aggiunta regionale sullo statuto della Fondazione Lucana Film Commission.